Ma è la mia storia, seduta sulle pietre calde della rocca, come una turista con la guida in mano. Sono la figlia di Ecuba e di Primo, re di Troia. Ho ricevuto il dono della profezia dal dio Apollo, ma poiché ho respinto il suo amore, mi ha punita e io non fui mai più creduta da nessuno. Fitta bambina, ho predetto il rapimento di Elena e la conseguente distruzione di Troia. Quando fecero entrare il grande cavallo di legno in città, io rivelai che al suo interno erano nascosti dei soldati greci, ma non fui creduta da nessuno. Ho predetto la mia stessa morte per mano della regina Clitenest. Nooo! Edo, Edo, Edo! Minus! Mantis, Pupetis! Mantis, Pupetis! Minus! 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 Minus!